In questo periodo si parla moltissimo di Next Generation, addirittura il nome del programma europeo per la ripartenza è Next Generation EU. Siamo con Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolano, ma quanto spazio la nuova generazione, le nuove generazioni potranno trovare per il loro futuro lavorativo nella professione del family banker, del consulente finanziario. Io ho detto spesso che siamo di fronte ad un'autentica età dell'oro per la consulenza finanziaria, questo significa da un lato che chi la sta già svolgendo ha davanti un futuro incredibile e per chi invece si sta avvicinando la situazione è veramente la più, probabilmente oggi in Italia, la professione che ha più prospettive di crescita in assoluto. Dico questo perché lavoriamo in un settore estremamente ricco, oggi la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è di circa 4.700 miliardi, non è solo un mercato dalle grandi dimensioni, è un mercato che cresce sempre e che cresce con dei tassi di crescita estremamente significativi. Basti pensare che mediamente il cittadino italiano accantona il 10% del proprio reddito lordo ogni anno, addirittura in situazioni di crisi o di difficoltà questo tasso aumenta moltissimo, nell'ultimo anno ha toccato addirittura il 20%. Ebbene questo mercato enorme in realtà è un mercato che rappresenta lo strumento, le risorse fondamentali per le famiglie, per le persone, per che cosa? Per realizzare i propri bisogni, i propri progetti, per proteggersi dalle proprie fragilità, quindi una risorsa importantissima che oggi necessita di un approccio nuovo, un approccio dove il risparmiatore abbia assolutamente chiaro a che cosa servono queste risorse. Ebbene in tutto quanto questo, il consulente finanziario è proprio per definizione l'interlocutore ideale, perché mette insieme due caratteristiche, il tempo di relazione che è fondamentale per comprendere fino in fondo chi ha di fronte e i bisogni relativi e a questo mette insieme, somma che cosa? Delle competenze specifiche, importanti e qualificate. Quindi ci troviamo di fronte veramente alla professione del futuro. Benissimo, grazie. È sicuramente una prospettiva interessante per moltissimi giovani e grazie come sempre a Stefano colpato di questa pillola di prospettiva. Grazie a voi.